Ecco, anche questa domenica mi hanno chiesto diverse persone di qualcosa, ma c'è pieno zeppo di umili e catechesi, proprio veramente, io posso aggiungere qualche riflessione così, che se vuoi essere buona, ecco, su sto buon pastore, la prima cosa che mi viene in mente è la pecora, ecco, una volta una mia carissima amica mi ha raccontato che su una superstrada stava attraversando un greggio e una pecora è rimasta fuori, è rimasta da una parte e lei così curiosamente si è fermata, accostata in una zona così e si è messa a osservare. La prima cosa che sta pecora è cominciare a dare segni di disperazione, ha cominciato a dare capocciate, ha una piedra proprio, ha delle testate proprio, e poi ha cominciato a strapparsi i piedi, l'ala dal petto, disperata, disperata, a un certo punto per fortuna il cane ha sentito, ha dato un segno al pastore, hanno lasciato il greggio, sono arrivati, hanno riattraversato la strada, ha ripreso la pecora in braccio e l'ha portata col greggio, ecco, però la cosa che mi ha tanto colpito da allora, non la dimentico, è la disperazione della pecora, la disperazione della pecora, e questo assomiglia molto a quello che io sento della gente, la disperazione, e chi non dorme la notte, e chi ha paura per il figlio, e chi ha paura per il lavoro, e chi ha un marito violento, e chi è morto o il padre o la madre, e poi la disperazione, il caos, l'angoscia, la gente dice non ti preoccupa, ma come non ti preoccupa, me sento malissimo, sto male, così, ecco, e allora, prima di tutto la pecora, e allora ecco, una cosa che, su cui vorrei far riflettere un po' tutti, attento alle pecore che hai vicino, perché uno molto spesso si inventa delle battaglie, degli ideali, ma hai delle pecore vicine, quando Gesù ci ama il prossimo, come te stesso, provate a pensare, al prossimo non in modo superficiale, ma veramente come una pecora, che è disperata, che non sa che fare, noi ci siamo sempre a dare i consigli, i consigli, e poi a rimproverare, e poi rimproveriamo, e poi consigli, e poi, io penso che una povera pecora disperata, quando si sente i consigli e basta, sta ancora peggio, sta ancora peggio, e allora ecco, a volte pensiamo proprio a quanto l'altro sta male, che non si sente accolto, non si sente amato, non si sente ascoltato, non si sente capito, e invece ecco, poi arriva il pastore, che non dice niente, lo prende a scavalcare la superstrada, e lo riporta con le altre pecore, ecco, questa è una cosa su cui sarebbe bene riflettere, ma attorno a noi, siamo convinti che il pastore non stia cercando noi per farsi aiutare, siamo i cani del pastore, forse, siamo le persone che si accorgono e dicono, pastore, aiutiamo questa pecora, ma aiutarla in base a quello di cui le ha bisogno, no? Perché dobbiamo fare qualche cosa che ci piace a noi, capite? Quindi, prima di tutto, ascoltare le altre pecore, ecco, noi siamo pecore, forse a volte un po' più educate, però siamo tutti pecore, allora quando qualche pecorella sta male, aiutiamola, intercediamo, cerchiamo di capire il suo problema, non andiamo lì come donna prassede a sapere già a priori qual è il suo bene, ricordare la donna prassede nei promessi sposi, no? Quella che si occupa di Lucia e era convinta di sapere il bene di Lucia, voleva farla separare da Renzo perché era convinta che Renzo era un delinquente, quindi anche questo, no? Per esempio, ascoltiamo l'altra pecorella, la compecora che è insieme a noi, ma di cosa ha bisogno? Non andiamo là pronti a fare i salvatori del cavolo, capito? Ora questo è un concetto, non lo so, se me può essere buono per riflettere, penso che ci sia parecchia roba. Poi un'altra cosa è il pastore, ecco, il pastore, c'è stato tanti pastori che si definiscono pastori, ma poi non gli importa niente degli altri, hanno bisogno del pubblico, hanno bisogno di essere dotati, hanno bisogno di essere ricercati, ma che ne so, io non lo so, comunque io ho avuto alcune esperienze di pastori meravigliosi, mi ricordo stavo nelle zone di Crema, c'era un prete e questo veramente per me era un santo, era un santo e c'era un vice parroco che passava tutta la vita, parla male del parroco, c'era quattro amici, non faceva niente, stava sempre a zonzo, la sera alle otto e chiudeva, stava là a mangiare la pizza, e questo puro parroco, era parroco pure di questa pecora un po' strana, di questo capo pecora che era, e mi colpiva molto, non parlava male mai di lui, mentre questo vice parroco non aspettava un'occasione, l'occasione, non lasciava perdere l'occasione per non vomitare contro questo parroco, questo parroco invece parlava sempre, c'è, beh, è giovane ancora, doveva un po' abituarsi, mai parlava male, e vabbè, ma un giorno arrivò un fatto, che questo veramente mi ha colpito, e ve lo voglio raccontare perché veramente mi ha dato uno scossone, stavamo in queste zone verso Crema, così, dove ci sono le strade che passano per il paese, perché a volte anche i tir passano per il paese, in quella missione che ho fatto c'erano un sacco di famiglie col figlio morto con la moto, c'era il figlio con la moto, poi passava a partire, con la nebbia era ammazzata, quindi c'era un tasso di morti proprio per queste strade che mancavano, vabbè, una volta dovevamo andare in una parrocchia con un parroco che era insieme a lui responsabile di una zona e questo parroco, questo parrochetto diciamo, aveva caricato 10 o 12 ragazzini sul suo, a un certo punto noi stavamo di ieri con quest'altro parroco da cui stavo, e questo non parte con 12 ragazzini a fare i spenti con la nebbia e si butta in mezzo alla strada, e a me proprio prende un colpo, il parroco che guidava questo qua scende come un pazzo, urla, si mette davanti a quest'altro per farlo bloccare, per bloccarlo, gli fa vedere che c'era i fari spenti, gli fa vedere che sarà messo, entrare nella strada di alta velocità senza guardare, e io che stavo con la questione, e quanto sei esagerato, e quanto mamma mia, quanto sei nevrotico, oddio, dico nevrotico, e rientra sto parroco, io insomma, ti pare così, e lui fa, e a me non me ne importa di come mi trattano, a me l'importante è che non si è fatto male nessuno, ecco, quello ancora mi è entrato dentro, cioè uno che ha subito una presa in giro, che ha rischiato di far si mettere sotto lui da sto femmo, che ha salvato 12 ragazzini con sto pulmino tutti rintanati là, e questo che invece che ringraziare scusarsi lo prende pure in giro, dico ecco un'altra cosa del pastore, il pastore ama le pecore, non fa la scena, non si mette a stridalfa polemica, cura le pecore, compreso il capo pecore, pure un scemo egoista, ecco, ecco, allora questa è la cosa importante, allora che questo, il pastore veramente è buono, e ama veramente le pecore, e ama veramente, e la gente questo lo sente, lo sente tra quello metallico che parla, che è l'improvera, che bacchetta tutti, e quell'altro invece che vuole il suo bene, lo sente, lo sente profondamente, no? E allora ecco, di cosa si parla oggi? Che spesso Gesù attraverso i suoi ministri reali continua a parlarci, continua a capire che ci conosce uno per uno, comincia a farci capire che ci ama e ci manda altri pastori che hanno più o meno la stessa logica, ecco, io c'era un romanzo, molte volte mio pare me lo leggeva, era Povalis, no? Noi conosciamo il film, va bene, è un capolavoro, però questo romanzo, io ricordo che mio pare mi parlava sempre di un certo Gaio, che era un prete che era sempre arrabbiato, e stava sempre a bacchettare tutti, e mi racconta una volta che, poi non so se ho letto pure io il brano, c'era Alicia, che era l'eroina del romanzo, che era, viva con una famiglia cristiana molto seria, era come un ostaggio di un altro re, non so di dove era, e era un angelo, e c'era in testa probabilmente di diventare una vergine consacrata, così, una specie di suora, diciamo noi, e poi un giorno, non so, incontra sto Marco Vinicio, che poi è l'eroe, ecco, quello pagano, nipote di Petronio, che poi si converte pure in lui, e si innamora, ecco, si innamora, e noi insomma diciamo, ma che bella cosa, arriva sto, sto, sto prete, sto Gaio, gli e comincia a rompe, ecco, hai tradito Cristo, hai tradito il tuo Dio per un uomo, per una creatura, hai tradito, hai tradito, e questa poveraccia con tutti i parenti suoi adottivi era tutta sconvolta, arriva San Paolo, senta la storia, dice, ma che sta a dire, ma Gesù stava a cara, ma Gesù non è così, ma Gesù è così contento che due creature che si amano, e quindi fa vedere il tocco del pastore rispetto a sto bastonatore, così, ecco, sto bastonatore a sto Gaio, poi c'è un'altra scena, questa volta c'è sta pieno, allora c'è sta la scena che stanno per essere cristiani, essere buttati nel circo, e ci hanno paura normalmente, cioè, io penso, uno di noi andasse mangiato dalla rigre, dal leone, o dall'orso, insomma, non è che sta proprio bene, bene, e c'è una paura, arriva sto Gaio, ah, l'altra, ecco, Vigliacchi, Cristo è morto per voi, e voi no, e comincia la solfa, a un certo punto si sente Pietro, 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 arriva Pietro, dice, ma l'ho tradito pure io, e la gente risente la voce del pastore, attraverso Pietro che era una pecora traditrice, poi che si era pentito, ecco, allora, ecco, oggi io direi una cosa a meno che mi colpisce, che vorrei che su questa riflettesse, è il tono, il modo, non tanto le battaglie, la battaglia per questa battaglia, ma la voce del pastore che ha piedità di te, che ha pazienza, è come tu devi averla con gli altri, no? Come giudicate sarete giudicati, capite? L'unica volta che Gesù è duro è quando nel capitolo 24 di Matteo separa le pecore, le sue, dai capri, avevo fame, avevo sede, ero pellerina, ero carcerato, ero nudo, mi avete aiutato, è lì che è duro contro la gente che dovrebbe prendersi cura degli altri, ma non se la prende con le pecore, se la prende con i falsi pastori, con la gente che con la scusa della religione si sfoga sugli altri, se ne frega della carità, usa il potere, si è sempre al centro dell'attenzione, si è sempre a fare i comizi contro questo, contro quello, quindi è come se il Signore ci desse proprio delle caratteristiche per riconoscere negli uomini che mediano la sua presenza, il pastore. Poi c'è un'altra immagine, la porta, ecco, questo della porta pure qua possiamo stare a sentire tutti i colori e tutte cose importanti, io vorrei dare una, la porta implica un passaggio, io sono la porta, noi nella vita spesso stiamo tanto tempo ragazzini, siamo egocentrici, ci lamentiamo, siamo egoisti, però a un certo punto capiamo che bisogna fare un passaggio, ecco, Gesù è il riferimento, no è un sacco di gente che si definisce portavoce di Cristo, le piccole anime che soffrono perché, no, ma proprio la parola del Signore, qualcuno che ce l'annunzia, Gesù il comportamento, ecco, io penso che se questo fosse chiaro, no, che ogni volta che vogliamo crescere, prendiamo Gesù, no, qualche estrione, qualche pazzoite di turno, Gesù in persona, ma cosa dice Gesù su questo, cosa dice Gesù su quest'altro, cioè lui andare a cercare nel Vangelo cosa dice, cosa fa lui, capite, non a riempire dei libri devozionali, io certe volte dico, ma perché la gente sta sempre a sentire tutti i messaggi della Madonna e mai ascolta il Vangelo, perché la Madonna, quella, la madre di Gesù, ha parlato poco, e invece Gesù ha parlato tanto, allora cosa fai, te cerchi una Madonna immaginaria, così, e gli fai di quello che te pare, sempre le stesse cose, è la mamma celeste che regge il braccio al figlio che si incacchia e te fulmina, ma te pare che quella è la Madonna, quella è la Marta che ha dei problemi psicologici e dice che la Madonna è noi giù quella, invece è Gesù, è Gesù la via, la verità, la vita, è lui, è lui, no le matte che si autodefiniscono mediatrici di Gesù Cristo, quando il Vangelo è pieno in seppo, San Giovanni della Croce, che è il dottore mistico, dice in Gesù il padre ci ha detto tutto, cerca altre cose nuove, significa non fidarsi, quindi attenti al misticume, alla gente pazzoide che si autodefinisce mediatrice di Cristo, lui è la porta, lui ti dice che tocca, e normalmente lui è sia pecora che pastore, perché oltre che essere pastore che ti guida, è stato per primo pecora, il servo di Yahweh era come una pecora muta, era come un agnello indifeso, non apri la sua bocca, quello deve essere il criterio, capite, nei passaggi, non le immagini mostruose di Dio che ci portiamo dentro e qualche clericale o qualche clero matto se sfoga e odia e ce la con questo e ce la con quello e ce la col Papa e ce la con i vescovi, per piacere, prendiamo Gesù, lui è la porta, lui è la pecora, è l'agnello, è il pastore e è la porta, cioè lui dobbiamo guardare, dobbiamo conoscere il Vangelo, a me colpisce, che gente colta, che sa tutto, non conosce il Vangelo, ma quel libretto piccoletto, ma da magnasselo quello, da imparasselo a memoria, da studiasselo, invece lo conosciamo un po' così, qualche pezzo Gesù che si arrabbia con i mercanti del Tempio, Gesù che dice furbi come i sarpenti, ognuno sceglie qualche frammento, qualche scampoletto del Vangelo che assomia alla sua psiche corrotta, ma il Vangelo, tutto il Vangelo, capito? Ma questo è anche l'approfondimento, Gesù è la porta, conosce veramente il Signore, non cercarsi cose strane che non c'entrano niente con lui. Poi ci sta un altro pezzo che diceva un mio confratello bellissimo, che è la seconda lettura di oggi, dalle sue piaghe siamo stati guariti, uno è guarito dalla medicina, no? Dalla piaga, ma la piaga vuol dire che dalla sua modalità di affrontare il male, quello ci cambia dal male fuori, dal male dentro, perché il problema nostro è il male che è in noi, Gesù lo dice, dall'uomo escono adultelli, escono omicidi, escono bugie, ladroci, tutto, quindi questo nostro essere un po' animali non è che va tanto bene, e invece le sue piaghe ci hanno guariti, cioè il suo modo tenero, dolce, benevolo, di portare ingiustamente il male, e poi quella cosa della risurrezione, che la tomba è vuota, che alla fine basta con sti continui ripensare al male subito, ma l'abbiamo fatto tanto noi, una volta dissi a frate, e dici, manico, a me quanta gente mi prende l'appuntamento e poi non viene, poi mi delude, poi non me la retta, e lui dice, e mi? E chiesa quante volte non abbiamo deluso il Signore? Porco Giuda, come mi è entrata quella parola? Quindi questo modo che le piaghe di Gesù ci guariscono significa il suo modo di essere, quindi quando dico molte volte sospettiamo la nostra natura, il nostro istinto religioso, sospettiamo di questa modalità che porta sempre alle guerre, mi ricordo quando ero ragazzo, la guerra dei cento anni, sempre in nome della fede, della fede, protestanti, cattolici, dico ma può essere questa, ma può essere la fede, sempre a farsi ammazzarsi? Allora ecco, dalle sue piaghe siamo stati guariti, ecco allora vi do queste tre piccole centri di riflessione, poi fate come vi pare, ecco il primo la pecora, la pecora non sa quello che fa, la pecora è disperata, la pecora se fa male a se stessa, lo attenti a giudicare gli altri, spesso tanta gente che non giudichiamo è semplicemente messa male, tocca a veci e pietà, se va un malato dal medico, il medico ogni emena, lo cura, poi la seconda cosa è il pastore e i pastori, cioè la gente che vuole bene, veramente, che vuole la vita nostra, che si preoccupa di noi, che ci viene a cercare, che ci sopporta, il pastore, cerchiamo il Signore e qualche pastore che gli assomiglia, e poi questo fatto dalle piaghe siete state guarite, dalle sue piaghe, si dice che molto spesso il nostro dolore non guarisce con le nostre richieste salvo di questo, ma no, fammi essere come te, spesso il dolore è guarito dalle sue piaghe, cioè dal suo modo di essere, ecco, andiamo un po' in profondità, ecco, questa Pasqua, questo tempo pasquale che dura 50 giorni, non è tanto per così, eh, una volta ti strappare via, una volta l'ho sbagliata, ma stavolta mi ricordo, dice, ma te fanno male le piaghe, dice, no, ce l'ho per guarnizione, ecco, cioè questa coesistenza tra dolore e risurrezione deve aiutarci a riflettere sulle nostre piaghe alla luce delle sue, il Vangelo, la risurrezione che vuol dire che Gesù, ecco questa è la vera porta, dà la morte alla vita, a noi ci aspetta la vita eterna, non ci aspetta un'altra croce, queste sono cosette, ma quando veramente ci sarà un passaggio, noi siamo figli della risurrezione, ecco perché la morte è stata vinta, perché la morte non c'è più, c'è il Signore, ecco perché la tomba è vuota, basta, sta sempre a rimestare il dolore che abbiamo avuto, c'è il Signore, andiamo appresso a Lui, ecco, Lui è il pastore, Lui è la pegola, Lui è la porta, Lui c'ha le piaghe che ci guariscono, quindi ritorniamo al Signore con tutto il cuore e almeno per oggi non parliamo male di nessuno, ecco, lasciamo perdere l'accusatore, siamo seguaci del vero pastore delle nostre anime.